buonasera a tutti ragazzi sto facendo questo video per mario devo venire a prendere due misure sul camper per dei tappetini poi metterò nel bagno di conseguenza ragazzi cosa bisogna fare bisogna dare una mano e ok non so usare la telecamera però vi faccio vedere dove metterò il tappetino lo metterò sul piatto del vc perché comunque qui dove lui ha pitturato ben bene che ha fatto un ottimo lavoro non so come si vede ma vabbè scusatemi con le riprese sono abbastanza legata ho intenzione di mettere un piatto un piatto ma come si suol dire un tappetino di gomma che ho visto usare già in un altro in un altro camper ho trovato l'ispirazione molto valida adesso si procede a prendere le misure dunque 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 vediamo mare dove mi ha messi metri un metro un metro un metro quando troverò il metro ragazzi ve lo saprò dire perché qua mario mi ha fatto sparire tutti i metri mannaggia ragazzi posso cercare il metro che due scatole eccomi di nuovo qua abbiamo trovato il metro due attrezzi e giustamente scusate io non so fare l'inquadratore carta penna per prendere tutte le misure niente ragazzi io vado a prendere le misure e poi ci aggiorniamo dopo buona serata come si vede male ok ragazzi con questo micro video io vi saluto ho preso le misure ve le allego comunque le ho scritte sul mio blog notes e auguro a tutti una buona serata grazie per la compagnia ok non ho fatto la live non sono una con il mio mario che fa tutte queste cose però volevo tenervi parteci perché i lavori non li fa solo lui quando lui è occupato col bimbo ci penso io ciao ciao e buona notte